ragazzi che panorami allora cominciamo da questa parte allora lì in cima dove vedete la croce e il becco di filadonna e purtroppo noi non riusciamo ad andarci anche se c'è questo bellissimo sentiero che praticamente va da qua e poi sale lì solo che ci vogliono 45 minuti e noi non li abbiamo bellissima la vista sulla val sugana spettacolo d'acqua su si vede ovviamente il lago di caldo nazo e piccolo 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 lì in fondo il lago di levico quindi tutti i posti che noi conosciamo benissimo poi andando avanti di fronte a noi la marzola anche questa fatta con le sue tre cime poi si vede ovviamente trento con l'adige e la sua piana rotaliana guardate che bello poi lì su fondo la val di nonna abbiamo il calisio che questo piccolo piccolo qui poi ci abbiamo la paganella che è questa qui e poi ci abbiamo il bondone questo se ne vede un pezzettino si vedono le antenne che ci sono in cima quindi c'è una vista davvero pazzesca giornata è bella l'unica cosa peccato che qui non arriva il sole per via di queste pareti rocciose questo è il bivacco il bivacco madonnina di nuova costruzione c'è più o meno due anni c'è gente che rimane qui a dormire quindi sono già lì dentro che si divertono e si riposano beh che dire due ore e 25 dal rifugio che non mi ricordo come si chiama qui sotto come si chiama il rifugio france una malga bene che lì su e il percorso praticamente si snoda tra questi boschi pietraie qui su e poi ci sono dei bei punti davvero belli che sono delle delle mini ferrate quindi per chi lo fa e magari non è attrezzato non è molto portato gli consiglio molto belle lì in fondo le dolomiti si vede anche qualche piccolo ghiacciaio bene ragazzi mi inquadro anch'io così almeno vedete anche l'autore del video consiglio a tutti questo trekking soprattutto per la vista è anche bello come sentiero un saluto dal vostro luca wild e vi faccio vedere dopo qualche pezzo di trekking qualche pezzo di cammino anche delle ferrate che abbiamo fatto la meravigliosa vista del lago di caldonazzo quella è la val sugana guardate che bei colori beh a un certo punto del sentiero dato che giustamente diceva che era per escursionisti esperti faremo un piccolo pezzettino di ferrata ovviamente senza l'attrezzatura e quindi ecco che entra in gioco la parte wild nel cammino perché giustamente ogni volta ce ne deve essere una e quindi farò questo pezzettino che poi sembra anche abbastanza facile quindi mi accompagnerete in questo passaggio con i ferri per i piedi e la corda per le mani e altissime comunque sto facendo una mano vado che con l'altra tengo il telefono beh devo dire che questo sentiero è vario ed è molto bello perché abbiamo fatto un tratto di cammino lì nel bosco poi abbiamo passato questa pietraia qui un po antipatica e adesso ci arriccheremo in su perché qui è praticamente tutto roccioso e quindi facciamo questo pezzo di di sentiero che è un po una via ferrata ma mi sembra anche abbastanza semplice vi chiedo scusa per la qualità dell'audio se si muove un po la videocamera ma sto filmando mentre cammino quindi mi capirete se non siamo molto stabile ok qui la via ferrata non so dove continua e quindi andremo all'avventura dai ci sentiamo poi quando siamo in cima ciao ragazzi accompagnatevi accompagnatemi in quest'altro pezzettino di sentiero wild direi che va giù eh passo falso e via quindi teniamoci bene alla corda tra l'altro qua c'è stato fatto un piccolo ponticello di assi quindi meglio tenersi anche perché si va giù come va Franci bene brava fai stare tranquilla la mamma eccoci qua beh questo è l'ultimo tratto e devo dire che si conclude in bellezza questo trekking alla vigolana vivacco vigolana cima madonnina forse perché c'è una madonnina in cima allo sperone bene ragazzi non c'è cosa più bella arrivati a un certo punto di girare l'angolo parte il lago spettacolare giri l'angolo e boom bivacco croce queste due punte che sono bellissime quindi questo risvolto qua è bellissimo cioè due ore dieci di camminata da una parte c'è questo paesaggio spettacolare e poi finalmente vedi la tua meta lì ok 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 ok